Ciao ragazzi e ragazze, oggi volevo fare qualcosa di diverso, vi volevo parlare del programma di sostituzione dell'Apple per l'Apple Nano della prima generazione. Sì, non è proprio la mia materia, ma ho pensato potrebbe aiutare qualcuno. Quindi, iniziamo subito. Questa è rivolta agli alpotonario, scusate ho l'influenza, di prima generazione, ha presente quelli rettangolari, tipo bianchi e non so neri, il mio era bianco, con la parte dietro in alluminio e davanti colorato, che sono stati venduti tra settembre 2005 e dicembre 2006. Questi, come fare per capire se il tuo è uno tra quelli? Andate nel sito dell'Apple, che magari vi lascio il link sotto, o me lo metto qui da qualche parte. E controllate il numero di serie. Dopodiché, se risulta tra quelli, cosa fare? Prima di tutto, il backup di tutte le vostre informazioni o canzoni usando iTunes, e compilare il modulo, che naturalmente vi guiderà il sito dell'Apple. O comunque vi lascerò il link, anche di questo di sotto. Non è necessario avere nessun tipo di scontrino, nessun tipo di, non so, istruzione o scatola, o comunque neanche gli auricolari originali, perché quando arriverà il postino, che sarà dell'UPS, lui prenderà solo l'iPod. Ok, cosa fare quindi? Se il modulo ha dei ritardi, tipo il mio, naturalmente, la prima richiesta l'ho fatta il 27 novembre, e poi l'ho cancellata il 26 gennaio, perché non succedeva niente. Dopo ho chiamato il numero, che non è un numero verde, ma è a pagamento, e anche di questo ve lo metterò di sotto. E la ragazza mi ha detto, guarda, è meglio se lo cancelliamo e ne facciamo uno nuovo, perché così si velocizza un po', magari è andato qualcosa storto, va bene. Allora ho rifatto una nuova richiesta, con lei il telefono, me l'ha fatta lei direttamente, e il 27 gennaio sono venuti a prendere il mio iPod, ed è stato inviato, una scatolina, ah, viene in questa scatola, con il materiale di protezione, è stato inviato il 27 dall'Italia, è arrivato là il 28, e dall'Apple è stato inviato verso l'Italia il 9 marzo, e mi è arrivato a casa il 15. Qui ci sono tutte le informazioni, ho cancellato un po' malino, comunque, quindi in questa scatola l'iPod sarà dentro questa plastichina, e questo è l'iPod. Allora, se avete un iPod nano, che è magari personalizzato, non so, fanno quelle scritte così, mi dispiace, ma loro ve ne daranno uno, normalissimo, questo è carino perché si zira, è utile soprattutto se voi siete degli sportivi, o comunque, in movimento, perché non è molto pesante, è molto ingombrante come un iPod taccio, insomma, più grande. Infatti, però, tipo, pensavo di vendolo, adesso ci penserò, perché avendo, ho anche l'iPhone, quindi, troppa roba, lo vendo. Comunque, sì, se è personalizzato, purtroppo avrete un iPod nano normale, di ultima generazione, però normale, tipo, il mio era di 2 GB, e questo qui è di 8 GB, quindi, ci ho guadagnato qualcosa, a parte fatto che è nuovo, anche se non mi dispiaceva il ricordo, di quello della prima generazione. Va bene, mi sembra tutto, se avete bisogno, c'è l'assistenza, appunto, il numero, o comunque potrete andare in un negozio, quindi, se non volete farlo voi da soli, andate nel negozio Apple più vicino, o, non so se quelli autorizzati lo possono fare, penso di sì, comunque ve lo scriverò di sotto, e, per controllare lo stato, anche quello c'è un link, naturalmente vi arriverà un'email, con scritto tutto, anche quando te lo inviano, dall'America con l'UPS, così tu puoi, tracking, rintracciarlo, e, questo è tutto, spero di esservi, stata utile, fatemi sapere se avete, qualsiasi tipo di domanda, cercare di rispondere, ciao!